La salute delle persone e il benessere degli animali. Parte da queste premesse la campagna Alleviamo la salute, iniziativa della Coop per far arrivare sugli scaffali dei supermercati carne e uova di animali allevati senza o quasi l'uso di antibiotici. L'iniziativa è davvero molto importante, ci lavoriamo da molti mesi insieme ai nostri fornitori. Si tratta di allevare gli animali da reddito utilizzando sempre meno antibiotici, anche zero antibiotici perché in questo modo si riesce a ridurre la quantità di antibiotici che sono in circolo e quindi a combattere il fenomeno dell'antibiotico resistenza che dà molti problemi alle persone e dicono tutte le autorità mondiali in termini di sanità può produrre molti danni nel giro dei prossimi anni. L'utilizzo eccessivo e inappropriato degli antibiotici facilita lo sviluppo di batteri resistenti e ne limita l'efficacia, tanto che studi scientifici stimano un aumento della mortalità nel mondo dalle attuali 700.000 a 10 milioni di persone nel 2050. L'impegno di Coop coinvolgerà 1.600 allevamenti in Italia. La prima filiera interessata è quella delle carni avicole e la produzione di uova. Noi chiederemo ai nostri fornitori di strutturare l'allevamento degli animali che sono oggetto di questo progetto in condizioni tali da rendere possibile un sviluppo del benessere animale e quindi una riduzione consistente e progressiva dell'uso degli antibiotici. Il Ministero delle Politiche Agricole sostiene l'iniziativa di Coop e il Ministro Martina auspica che faccia scattare una competizione virtuosa. Invitiamo anche altre aziende, altre realtà a fare anche di più se possono. Il tema del benessere animale è cruciale, sarà sempre più un tema fondamentale anche di relazione con il cittadino consumatore. Che si aprano progetti, sperimentazioni forti di ambito nazionale come ha fatto Coop qui è molto rilevante.